Mentre il Partito Democratico in Italia rilancia sullo Jussoli, i socialdemocratici della Danimarca la pensano diversamente. Infatti nel paese nordico si sta discutendo una legge per limitare al 30% la presenza di immigrati non occidentali nei cosiddetti quartieri ghetto. In Italia la sinistra griderebbe al razzismo e alla xenofobia. In Danimarca i compagni socialdemocratici lo considerano invece uno strumento indispensabile per arginare lo sviluppo di società parallele, gestite da gruppi religiosi ed etnici poco disponibili ad accettare le leggi dello Stato. La classificazione dei quartieri a rischio si applica a qualsiasi zona urbana dove sussistano due dei seguenti quattro fattori. La presenza del 40% di disoccupati, una criminalità tripla rispetto alla media nazionale, stipendi lordi inferiori al del 55% della media e poi un 60% di residenti tra i 39 e i 50 anni senza diploma superiore. Dati che sono vicini a molte periferie del nostro città, sempre più simili a Ghetti grazie alle politiche di accoglienza senza freni voluti dalla sinistra. Il tentativo, diciamo, di bonifica delle periferie si affianca ai drastici provvedimenti già introdotti dalla socialdemocrazia danese per controllare l'immigrazione e imporre un limite a moschee e predicatori islamisti. Norme di buonsenso per cercare di arginare fenomeni di sicurezza ed estremismo. Ma per la sinistra italiana bisogna accogliere tutti, delinquenti compresi, e bisogna chiudere un occhio anche di fronte al degrado e al disagio sociale delle periferie ghetto.